Salve a tutti. A breve scadrà il biennio di validità delle graduatorie provinciali delle supplenze, ma ancora non si ha alcuna notizia circa la procedura di aggiornamento. Sebbene migliaia di docenti precari pressino affinché si proceda per l'anno 2022 all'aggiornamento biennale delle GPS, potendo quindi aggiornare le proprie posizioni con l'inserimento dei servizi maturati in questo biennio e degli eventuali titoli culturali conseguiti, ancora non si ha nessuna notizia certa se effettivamente avverrà o meno l'aggiornamento nel 2022. Addirittura è stato presentato un emendamento al decreto mille proroghe pubblicato in gazzetta lo scorso 30 dicembre, secondo il quale le graduatorie dovrebbero essere aggiornate il prossimo anno, quindi con lo slittamento di un anno della procedura di aggiornamento e quindi andando contro quella che era in effetti la volontà del Ministero di allinearle all'aggiornamento delle GAE che è previsto per quest'anno. Tuttavia sembra, dalle notizie che giungono, che la politica non sia tanto propensa per far slittare al prossimo anno l'aggiornamento delle GPS. Vedremo perché i tempi stringono e l'anno scolastico va verso il secondo quadrimestre, quindi verso la sua conclusione e quindi si dovrebbe intervenire in tempi celeri per dare certezza. Anche tenuto conto che lo scorso anno le GPS, quantomeno la prima fascia, sono state utilizzate per le emissioni in ruolo e quindi si aspetta una decisione anche in questo senso, cioè se anche per le emissioni in ruolo del prossimo anno scolastico si potrà attingere dalla prima fascia o addirittura dalla seconda, come proposto da qualcuno, delle graduatorie provinciali per le supplenze. Vedremo come andrà. Vi ricordo di seguire i nostri canali social e il sito tecnica della scuola.it per essere costantemente aggiornati. A presto! Grazie a tutti!